È una vicenda che sta caratterizzando le ultime settimane del 2022, ma certamente se ne parlerà ancora anche nel 2023. E chissà per quanti anni. Sono passati solo quattro anni dalla fusione dei comuni di Corigliano-Calabre-Rossano, ma c'è chi già vuole tornare indietro e dividere quel Corigliano-Rossano. E nel 31 marto 2018 questa è la data della nascita della nuova città, un centro che per estensione è certamente il più grande dell'intera regione e che supera i 70.000 abitanti. Molti di loro l'anno prima, precisamente il 61,4% dei votanti di Corigliano-Calabro e il 94,1% di quelli di Rossano si erano espressi a favore della fusione. Ora però un gruppo di cittadini vorrebbe provare a tornare all'antico. È in corso infatti una raccolta firme per promuovere un nuovo referendum per chiedere alla popolazione in buona sostanza se la fusione è stata cosa gradita o se preferirebbero tornare ai due comuni separati. Per riuscire a presentare la proposta di legge servono 5.000 firme ma a bloccare il tutto è per il momento una legge regionale approvata proprio lo scorso 22 dicembre che vieta ogni iniziativa popolare, quindi anche un referendum consultivo, prima di 15 anni dall'avvenuta fusione. La legge votata tra gli altri anche da due consiglieri regionali di maggioranza del territorio, ovvero Pasqualina, Strafaccio e Giuseppe Graziano, vuole dare un lasso di tempo minimo per verificare i risultati del percorso di fusione, una legge che viceversa non è piaciuta ai promotori della raccolta firme che giudicano il provvedimento incostituzionale. Fra coloro i quali restano a favore dell'unità dei due comuni anche il sindaco Flavio Stasi. Ricordiamo che in Italia le fusioni in tutto sono state 139 e in nessun caso si è tornati per ora indietro.